ora faccio come sgarbi mi voglio sbilanciare tre settimane di arresto totale per me potranno bastare ci hanno voluto spaventare ma è giusto così secondo me il 3 aprile ci diranno sì potete uscire ora potete andare al centro commerciale e da mcdonald a mangiare si ricomincia a vivere alla grande avrete il campionato andrete al bar e non sarà reato restiamo tutti a casa ma dillo a chi non ce l'ha chi vive sotto i ponti tu dimmi come cazzo farà dice che l'assistenza comunque assicurata allora tutto ok prepariamoci alla rimpatriata potete uscire potete ricominciare a menari senza fissa dimora a schiantarvi a 180 all'ora potete andare tutti quanti al mare felici e contenti fate il moto a galla tra gli assorbenti